Buon pomeriggio, quest'oggi per presentare l'ultimo incontro della rassegna filosoficamente ci sono io, farò brevemente le veci del professor Fabio Cileci che di solito invece introduce i relatori perché oggi finalmente tocca a lui. Dico finalmente perché il professor Cileci oltre che collega di Vaglia e amico, docente di storia della filosofia italiana, vice presidente del posto di laurea e soprattutto faccio prima dare la parola al professor Agostini, quindi caro professor Agostini tocca a te. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e ringrazio il collega Fabio Sulpizio per avermi lasciato la parola, l'ha dovuta lasciare un po' precocemente per questi problemi di audio che per fortuna sono spariti e sono molto contento di essere qui perché è l'ultima giornata e ci tengo molto a salutare tutti, a dare questo saluto che è un congedo per il prossimo anno, un arrivederci per il prossimo anno, ma anche ci tengo molto perché oggi tiene la relazione finale Fabio Cilaci. Fabio Cilaci che prima di questo incontro, pochi minuti fa, ha detto a me e al professor Sulpizio di non presentarlo perché, insomma, perché ragioni anche di misura, di modus e rebus, però ci tengo io a dire due parole, quindi come dire, vado un po' a disubbidire a questa piccola richiesta del mio caro collega perché lui ha organizzato in maniera magnifica questa iniziativa, quest'anno come l'anno scorso, quest'anno con tutta la complicazione del fatto che dovesse essere fatta in queste modalità e quindi voglio dire, seppur brevemente, due parole su questo professore del nostro Ateneo che oltre a essere vice presidente del mio corso di laurea, il nostro corso di laurea è anche uno studioso, come tutti noi, si occupa soprattutto di Schopenhauer e anche della fortuna di Arthur Schopenhauer in Italia e all'estero. È segretario di uno dei centri di studio del nostro dipartimento, appunto il centro interdipartimentale di ricerca su Schopenhauer e la sua scuola, ma è anche membro della sessione italiana della Schopenhauer Gesen. Caro Igor, credo che ti sia andato via l'audio. Solo ora spero. Ok, e volevo dire che anche lui ha fondato un altro centro di ricerca del nostro, della nostra università, il centro di ricerca interdipartimentale in Digital Humanities di cui è anche membro. E dopo aver detto queste cose, in modo tale da inquadrare il nostro relatore di oggi, sperando che il non essere stato troppo gloccato con l'audio, anche io, gli lascio la parola e ringraziando però tutti coloro che hanno contribuito con la loro presenza, con il loro sostegno a questa bella iniziativa. Un caro saluto a tutti e buon lavoro. Prego a te la parola Fabio. Grazie molto Presidente, grazie molto per queste parole che comunque mi hanno in qualche modo collocato fra Schopenhauer e Digital Humanities. In questa occasione io ovviamente parlerò più come esperto di informatico-manistica, poiché l'argomento riguarda le reti d'odio e le speech e io non voglio togliere troppo tempo a quanto dirò. Poi ci sarà in chiusura, farò qualche salute e ringrazierò ulteriormente chi ha avuto la pazienza di seguire tutta la rassegna fino a qui e di seguire insomma questa iniziativa che è stata un'iniziativa importante, perché questo è l'undicesimo appuntamento. Vado subito a bomba, vado subito a parlarvi dell'argomento di oggi. L'argomento di oggi riguarda per l'appunto late speech. Adesso manderò manderò il... ok, dovremmo quasi riuscirci a brevissimo. Lo stiamo per mandare, spero che voi possiate vedere, che voi possiate vedere quello che vedo io e quindi reti dell'odio, hate speech e cyberbullismo. Tate mi conferma che tutto avvenga secondo quanto deve avvenire. Cercherò di essere quanto più preciso in questo ambito. Vado a dire quello che riguarda le reti dell'odio. Molti potrebbero pensare che è un tema alieno alla filosofia. Intanto è un tema molto unito a quello di questo ciclo di seminari che ha a che fare con questa materia, con la materia trasversale dell'educazione civica e quale cosa più importante del poter riferire su un tema come questo. Un tema che è molto filosofico, molto più di quanto si possa pensare, come stavo dicendo all'inizio, per un semplice fatto, per il fatto stesso che riguarda fondamentalmente la costituzione dell'identità. La costituzione dell'identità che avviene soprattutto attraverso la memoria. Se io vi dicessi da un momento all'altro di aver battuto la testa e di non ricordare ciò che dovrei riferire in questo momento, o dovessi perdere memoria della mia stessa vita, della mia stessa esistenza, che cosa rimarrebbe di me come persona? Praticamente nulla, sarei una tabula rasa, sarei una persona che ha delle capacità e dei talenti che però non ha ancora messo in funzione. Ecco, voi ricorderete che Umberto Eco parlava della cosiddetta memoria vegetale, cioè la memoria che di secolo in secolo ci siamo tramandati come memoria fondata sui libri, sui testi, da qui vegetale, la memoria tradizionale. Ora le fonti, le fonti di trasmissione della nostra memoria, dei nostri scritti, di quello che facciamo, della nostra stessa didattica, è cambiata. La memoria diventa sempre più digitale, è fatta di filmati, è fatta di foto, ma soprattutto avviene attraverso processi di digitalizzazione, anche delle memorie antiche, se ci pensate, che vengono digerite in maniera digitale. E questa memoria costitutiva dell'identità, nel momento in cui cambia la propria struttura, non è più basata sul foglio, non è più basata quindi sui testi, ma diventa una memoria telematica digitalizzata, codificata in maniera elettronica, a sua volta determina una nuova costituzione della nostra identità. Non parlo di identità digitale in quanto tale, non parlo quindi dello speed, parlo di come noi ci percepiamo e di come noi ci rappresentiamo nel mondo, parlo di quello che rimane di noi come traccia di noi all'interno del mondo. Vi è però che, come è noto, in internet esiste uno strano paradosso. Il paradosso per l'appunto della memoria, cioè se da un lato noi sappiamo benissimo quanto sia difficile trasportare i dati che sono scritti su supporti diversi, pensate a quanti supporti abbiamo cambiato nel tempo, dai floppy, quelli grandi, alle pennine, ai cd e dvd, adesso pare che con la cloud le cose possano andare un poco meglio, noi abbiamo vere e proprie e vere e proprie problemi di obsolescenza dei supporti fisici e quindi del trasferimento dei dati e però, e però, c'è quasi come un paradosso per l'appunto, il problema di non lasciare tracce in rete. Noi siamo continuamente monitorati, siamo continuamente descritti, veniamo continuamente rappresentati attraverso la nostra navigazione e questo rappresenta in qualche modo un problema perché molte volte non possiamo sottrarci a questo tracciamento e questo tracciamento traccia la nostra figura, traccia quindi il solco della nostra memoria da che ne va di tutta la nostra identità, quindi praticamente delle forme quasi indirebili. Qui un secondo punto molto importante prima di arrivare alle reti dell'odio e le manifestazioni dell'odio in rete. Beh, se non capiamo come funzionano i social network, come funzionano le piattaforme, come funziona l'ecologia dell'informazione, l'infosfera cosiddetta all'interno di questo sistema, non capiamo come si costruisce la nostra, la memoria di noi, la negoziazione delle informazioni su di noi e il tracciamento della nostra persona all'interno di questo nuovo sistema. Primo punto, non è vero che la rete sia democratica, la rete è fatta secondo la forma di un grafo e il grafo come poi potete vedere non è una rete neutra, è una rete che è sperequizzata, che ha vari snodi, che ha vari nuclei e non è vero nemmeno che se qualcuno di noi si mette in rete vale come un altro, non è vero che uno vale l'uno. Basta pensare al caso di Giovanotti quando qualche anno fa, 5-6 anni fa, si scrisse su Twitter, beh da un giorno all'altro, anzi da un'ora all'altra ebbe più di duemila follower e io dopo un anno ancora non li ho raggiunti, per dirla tutta. Ho di persone che si sono costruite attraverso i social network, attraverso il marketing, attraverso tutta una serie di, come posso dire, di nuove forme di retorica che ovviamente coinvolgono e persuadono l'utente dall'altra parte dello schermo. Quindi la rete non è neutra, nella rete uno non vale uno, nella rete siamo soggetti alla cosiddetta bolla dei filtri. Che cosa, che cos'è questa bolla dei filtri? Beh, è una forma di personalizzazione escludente, ci vengono proposti dei siti, ci vengono proposte, ci vengono inviate delle mail, ci vengono dati dei feedback su quello che compriamo e acquistiamo in base alla nostra identità digitale, in base alla nostra navigazione, ma anche in base al supporto o al dispositivo che utilizziamo, in base alla localizzazione di questo dispositivo. Potrebbero cambiare i suggerimenti avendo un telefono rispetto ai suggerimenti che potrebbero provenire stando da un home station, da una postazione da casa. E questo è il ragione del fatto che il marketing analizza i metadati, i flussi e anche i comportamenti dell'utente. E ovviamente suggerisce, dare i suggerimenti di interazione in base a questa bolla. Ora siamo in una bolla che però, per essere tale, non è visibile. Noi pensiamo che facendo una ricerca su Google avremmo tutti gli stessi risultati, non è così, provate a fare un esperimento. La medesima ricerca provatela a fare dall'account di vostro marito, di vostra sorella, di vostro fratello o da una postazione diversa vedrete che se anche minimamente qualcosa cambierà. Quindi una sorta di prigione trasparente, nella quale, come se non bastasse, ci sono anche effetti di eco-chamber. Che cos'è l'eco-chamber? L'eco-chamber riguarda quei fenomeni, significa cassa di risonanza, camera di risonanza, quei fenomeni in relazione ai quali noi abbiamo solo principi di conferma, i cosiddetti bias di conferma. vorrei dire pregiudizi se volete riconfermare. Quindi se io credo nei marziani e sono su Facebook e faccio sempre le medesime ricerche, probabilmente prima o poi gli algoritmi di Facebook mi suggeriranno il gruppo Conosci gli Alieni di Area 51. Ciò vale anche per cose molto più pericolose, come gruppi complottisti, sovranisti, gruppi che pensano a rifondare il partito nazista, o gruppi che pensano all'epurazione di minoranze. E vedete, la cosa principale, quello che si impara dalla vita, è che in realtà noi dai nostri errori sbagliamo e quello che è più complicato fare su queste reti, che sono quindi tessuti in una certa maniera, come avrete già compreso, è proprio sbagliare. Noi abbiamo solo conferma delle nostre opinioni. Io posso pensare di attraversare un muro e su Facebook probabilmente posso anche dichiararlo. Nella vita reale però ci sbatte il muso. Questo dispositivo attua un processo di conferma del pregiudizio, di conferma dell'idiozia e ogni ripetizione si rafforza. Ci diamo praticamente ragione. Esattamente il contrario di quello che fa il metodo scientifico, il quale formula delle ipotesi, attraverso la sperimentazione, il tentativo di queste ipotesi, le per l'appunto le sperimenta, le mette alla prova dei fatti. Laddove l'errore confuta l'ipotesi, si torna indietro, si ricomincia, si formula un'ipotesi più efficace e più capace di saper rispondere alla realtà, fin quando non avremo successo. Ecco il metodo scientifico galileano, ovviamente mi riferisco a quello in particolare, fa dell'errore il punto di forza e della confutazione, per dirla con Popper, il punto di forza delle nostre convinzioni, della espressione, di una visione scientifica del mondo. Andiamo allora all'hate speech, vale a dire ai cosiddetti discorsi d'odio. Innanzitutto si è sempre pensato, questa insomma è la massima che passa, un po' l'immagine che viene un po' cavalcata, alla rete come una sorta di grande cervello. Beh, se fosse così, quello che vedete dovrebbe avere un'altra forma e più che altro un sistema libidico, c'è un sistema in cui si innervano varie dorsali e come vedete anche molto molto speriquizzate, anche molto collocato geograficamente in maniera molto diversa, non omogenea e abbiamo grandi dorsali che attraversano l'Atlantico, grandissime come voi potete vedere da questa immagine, molto di meno sull'Africa e quindi una cosa è poter interagire da un posto magnifico, collegato, tecnologico come New York, un'altra cosa è poterlo fare dal cuore del Congo belga, da Kishasa, beh è ovvio che sarà molto più complicato, le stesse reti sono complesse, non sono fatte materialmente, non sono fatte della medesima materia, ci sono le fibre ottiche, ci sono le wifi, ci sono l'infrared eccetera eccetera eccetera, qui ovviamente è inutile entrare nei particolari, ma soprattutto se noi andiamo a analizzare l'hosting, cioè il traffico di dati e dei siti, beh vedremo che veramente una minima parte riguarda l'informazione come tale, c'è molta pornografia, c'è molto dark web, c'è molto web nero di commerci che non voglio nemmeno citare, dell'informazione non è detto che sia informazione veritiera, verace, molta informazione fasulla, molta informazione farlocca e fra l'altro si trasforma in dei veri e propri oggetti ontologici con i quali confrontarci, perché sono inconfutabili, l'abbiamo detto prima, se avvengono si processano e si istituiscono attraverso la rete, quindi voi capite bene quanto sia complicato questo sistema libidico, ma che cos'è, vediamo un poco intanto questo hate speech, beh qualsiasi espressione verbale è no, quindi anche immagini, anche filmati, frasi, post, chat, email, immagini, video e meme, comunicata via internet che istighi apertamente all'intolleranza e alla violenza nei confronti di una persona o di un gruppo, tale da legittimare forme di discriminazione o da scaturire reazioni aggressive o da generare danno sia esso materiale, psicologico, sociale e reputazionale. Questo ovviamente è una definizione ufficiale che voi trovate anche nelle linee guida dell'Unione Europea che sono state ovviamente recepite dall'Italia. E quali sono i punti forza dell'hate speaker? È l'anonimato ovviamente di chi utilizza questo linguaggio, la sbagliata, l'erronea percezione della realtà, il fatto di far scivolare la verità all'interno di falsità attraverso la struttura del verosimile, sulla quale in questa sede non mi posso soffermare, la viralità dei social network system, cioè il fatto che i messaggi rimbalzino con una velocità inedita per la storia dell'uomo, la forza aggregante dell'istinto aggressivo. Ecco, diversamente da quanto si può pensare l'odio, che insomma è figlio di Eris, secondo il mito, cioè delle separazioni, invece sembra, questo ci dice la psicologia che studia questi fenomeni, aggregare molto. Il nemico rende molto più uniti i gruppi, quando viene individuato un nemico ufficiale, un nemico pubblico. Andando avanti e quindi tagliando questo mondo vasto e anche molto complicato su tema del cyberbullismo, la prima cosa che mi viene in mente, la prima cosa che voglio, sulla quale voglio soffermarmi è che non va confuso il fenomeno del bullismo con quello del cyberbullismo. Sì, c'è ovviamente una stretta correlazione, c'è una stretta parentela, come voi tutti potete immaginare, ma questa parentela non deve trarre in inganno. Il bullismo è sempre esistito, probabilmente esisterà sempre fra i ragazzi per quella certa cartiveria, ma vediamo in cosa consistono le differenze, perché è quello che ci interessa. Beh, innanzitutto cambia la cerchia sociale. Intanto i dati dell'Istat ci dicono una cosa terribile, che più del 22,2% di vittime del 2019, stiamo aspettando adesso i dati del 2020, che saranno molto diversi, perché dovete pensare che siamo stati in telematica, quindi ci aspettiamo un'impennata di questi dati, ci dicono che il bullismo sta aumentando. Mentre nel bullismo la cerchia sociale era quella del proprio campo di calcio, del proprio circolo, della propria classe, il cyberbullismo si estende a tutto il mondo. Laddove c'è qualcuno che vuole sbeffeggiare qualcun altro, e nel mondo ce ne sono purtroppo, finisce per ritrovare, per essere incanalato, anche attraverso il sistema di cui vi ho parlato, verso questi siti di shaming, di presi in giro, di messa alla berlina della povera vittima. La tipologia? Beh, generalmente il bullo era uno piuttosto forte, il ragazzo muscoloso che faceva lo sbruffone, qui invece il bullo è qualcun altro, è qualcuno che sappia utilizzare la nuova tecnologia, che sa che è abbastanza pratico, è abbastanza domestico di alcuni strumenti, e quindi non ci deve meravigliare che proprio il bullo in quanto tale sia cambiato nella sua figura. Le comunità di riferimento? Beh, i bulli prima erano fra studenti, fra compagni di classe, di istituto, di palestra, erano comunque conosciuti dalle vittime, si potevano evitare i bulli, fin quando insomma lo si poteva fare fisicamente. I saber bulli sono per l'appunto anonimi, sono persone che si fanno passare prima per amici, si inseriscono nelle nostre nicchie, nelle nostre reti sociali, e poi in realtà cercano soltanto, insomma, di dimostrarsi, di farsi belli, denigrando il prossimo. L'impatto sociale, luogo e tempo, beh, luogo e tempo qui cambiano in maniera considerevole, perché mentre c'era soltanto l'oraio della campanella, nel quale uno si poteva imbattere nel bullo, e i tempi della scuola, quindi si poteva poi evitare nell'altra parte della giornata di imbattersi per l'appunto nel bullo di turno. Qui luoghi e tempi non ci sono più. Siamo sempre online e siamo sempre collegati a qualcosa, siamo sempre in delle cerchie sociali. Quindi cambia anche il contesto e anche il contesto protettivo, mentre prima la scuola poteva in qualche maniera arginare il fenomeno del bullismo, ad esempio con le espulsioni, con le note, con i richiami, chiamando in famiglia. Vedete, qui è difficile rintracciare chi utilizza questo tipo di pratiche, questi discorsi dell'odio. vi è una diversa visibilità del latore, cioè di chi fa il bullo. Il bullo di un tempo aveva tutto l'interesse a farsi vedere, a dimostrare di essere il bullo del quartiere o della scuola. Qui invece abbiamo un latore che cerca l'anonimato, cerca di rendersi invisibile, di non lasciare tracce. È la stessa vittima che un tempo poteva essere conosciuta soltanto in una scuola, in un ambiente, in un ritrovo, in un contesto sociale. Ormai è una vittima per tutti, è una cosa che non verrà più cancellata. Guardate, vi faccio un esempio, permettetemi, magari anche banale, però può rimanere nelle vostre eventi. Mio padre ricorda sempre un evento di un certo dottore, adesso una persona notabile, insomma, del nostro paese, che da bambino, il primo giorno di scuola, come molti bambini, si misa a piangere, a strepitare e anche a fare altro. E ovviamente è rimasta una micro memoria di questo, è rimasta una memoria molto localizzata di questo avvenimento. Cosa diversa è invece la memoria di sé, che si perpetua nel tempo che difficilmente verrà cancellata, quando diventeranno questi ragazzi che vengono presi in giro, ma anche gli stessi bulli, quando diventeranno un giorno invece degli adulti. C'è una regola aurea che io voglio invitare a seguire, a far seguire anche ai ragazzi che ci dovessero ascoltare. Mai postare qualcosa su Facebook, per fare l'esempio del più grande social network attuale, mai postare video, foto, che possano essere giudicate negativamente da tua mamma, da tua nonna, dalla tua insegnante e da tuo figlio. Quindi ci vuole una dimensione del tempo molto diversa da quella che avevamo noi ante digitale. E quindi personalità e responsabilità sono veramente molto diverse in questo campo. Passo all'indagine dell'ISTAT, quella del 2019, ripeto stiamo aspettando risultati di quella del 2020 e facciamo un piccolo paragone anche con quella del 2015, per capire di chi stiamo parlando. Beh, la maggior parte delle vittime, il 50% e più, sono ragazzi fra gli 11 e i 17 anni, in particolare fra gli 11 e i 13. Questo vuol dire che proprio l'età di conferma della propria personalità, dell'adolescenza, della fragilità, della costruzione del proprio sé. Sono molte più frequenti i casi al nord che non al sud, probabilmente perché vi è una dimensione sociale anche molto diversa, probabilmente al sud si fa più comunità, questo lo interpreto io come dato, ma dovrei avere insomma delle altre pezze di appoggio, il dato c'è però insomma. Solitamente i bullizzati, udite udite, sono più le donne che gli uomini. Un tempo probabilmente non era così, perché il bullo solitamente era il macio, il maschio che faceva il macio. E invece questo trasferimento del discorso della personalità e dell'identificazione della personalità attraverso i social network, che viaggia molto sui testi e sul racconto, investe una maggioranza dell'utenza femminile. inoltre, nemmeno a dirlo, ovviamente più si è nicchia, più si è stranieri, più si è minoranza, vedete, è una minoranza di genere e adesso ci troviamo anche con la minoranza, con la discriminazione razziale, se si è stranieri il bullismo aumenta in maniera verticosa, vertiginosa, chiedo scusa. Vedete c'è un continuo crescere dal punto di vista statistico, è un crescere anno per anno. Io veramente aspetto con ansia le statistiche del 2020, perché la DAD involontariamente avrà inciso con la nostra vita reale dal punto di vista della quantità del tempo offerto e quindi di esposizione in telematica. Andiamo un po' a capire quali sono i fenomeni però del cyberbullismo, del cyberbullying. Beh, esistono tante maniere per fare bullismo. Il body shaming, cioè la presa in giro del proprio corpo, immaginarsi che questo sia cosa di poco conto, può essere un grave errore, specialmente nell'età dell'adolescenza. Leogging, per esempio, è un fenomeno utilizzato soprattutto dai ragazzi nei confronti delle ragazze, c'è quasi una sorta di sfida ad invitare la ragazza più brutta, corteggiandola, facendola sentire importante, per poi lasciarle improvvisamente. Questa è veramente una pratica odiosa. C'è la violenza verbale, il late speech vero e proprio, c'è parolacce, espressioni terribili, cattiveria verbale, i nomignoli che vengono affibbiati a delle persone che hanno queste un perdurare nel tempo, come si avevano nella civiltà pre-digitale. Erano cose un po', permettetemi di dire, di paese, ma si poteva cambiare città, si poteva ricominciare anche una propria vita, una propria dimensione personale. Il discredito sociale e personale che si può attuare attraverso le piattaforme, la diffamazione con le false informazioni, la diffusione di informazioni private, l'exposure, cioè l'esposizione dei propri dati, prima mica era così semplice poter avere informazioni personali. Io l'altro giorno ho fatto, ho giocato un po' con questo nuovo network, con questa nuova app che si chiama Deep Nostalgia, che ricostruisce un po' l'albero genealogico, messi mio nome, mi ha trovato dei parenti lontani che nemmeno conoscevo. Il revenge porn, e qui ci sarebbe tutto un discorso che sarebbe molto lungo da aprire, però la rimanderò alle domande, ma ovviamente c'è il rapporto con la sessualità, che è tipico di questo periodo di crescita, di confronto anche con le proprie opzioni sessuali. Il gaslighting, cioè la manipolazione psicologica, l'inganno, l'immaginazione, vedete, non sono cose antiche, ma sono cose da codice rosso, come ci impone anche la legge. Voi sapete che esiste oramai un vero e proprio, una vera e propria legislatura su questo cyberbullying, è importante ricordare che queste cose non devono essere sottovalutate, che vanno denunciate, perché se noi abbassiamo la soglia dell'attenzione e rendiamo tutto indifferente, diventa una valanga, cioè non riusciamo più nemmeno ad amministrarle queste cose, specialmente in contesti di riconoscimento reciproco fra i ragazzi come quello scolastico. Permettetemi ovviamente di ricordare che esiste anche l'abuso fisico, il pestaggio di gruppo, il cosiddetto happy slapping, il prendere a schiaffi un povero Cristo che ti capita sotto mano, la sottomissione, ma ovviamente è la persecuzione vera e propria, il cosiddetto cyberstalking. Vedete, sono tanti tasselli di un fenomeno molto complesso, ogni tassello qui potrebbe essere ricostruito. Il cyberbullo quindi non è più il bullo di un tempo, è anonimo, l'anonimato rende più forte anche alcune pulsioni se volete, c'è una vera e propria scissione di personalità, invece il vecchio bullo andava quasi nel paranoico, in una propria conferma della personalità, è difficilmente rintracciabile, non c'è più un limite di spazio e di tempo, è un bullo nipresente come una scimmia che non riusciamo più a levarci dalle spalle e l'autostima di questo bullo è basata sull'approvazione di questa cerchia, di questo grafo sociale che si forma, come vi ho già detto, in una certa maniera attraverso la bolla dei filtri, attraverso l'ecochamber e quant'altro. Quindi le vittime, avete capito che sono sempre quelle le minoranze, quelle che hanno diversità fisica e di abilità, di genere, di orientamento sessuale, sta tornando molto la discriminazione sessuale fra i nostri ragazzi come non si vedeva da dopo gli anni 70, l'appartenenza sociale, culturale, etnica, la stessa diversità di comportamento e la maggior parte delle vittime sono adolescenti, circa il 75% e per lo più donne. Questi casi ovviamente portano sino agli estremi che fanno scalpore ma non sono cose che vengono dal nulla, sono difficili da percepire ma esistono fine casi estremi di suicidio. Ecco, come si combatte il cyberbullismo? Il cyberbullismo non è facile da combattere perché è pervasivo e perdurante, si allinea nelle sacche della nostra vita sociale e anche privata, non c'è più una differenza fra privato e non privato, vedete noi viviamo in una dimensione che Floridi ha chiamato con grande intelligenza on life, perché anche se noi pensiamo di non essere sui social network, di poterci sottrarre, oramai non possiamo più, perché ci scattano una foto e ce la mettono su Facebook e comunque veniamo ripresi, comunque si parla di noi, comunque si dice dove siamo stati, come siamo stati. Qui c'è una nuova forma di responsabilità, che non è quella di stare per forza sui social network, ma di saperli utilizzare e di sapersi difendere. difendere come, conoscendoli, conoscendo come funzionano, educando alla funzione dei social network, educando i nostri ragazzi anche al funzionamento dei social network, facendogli riflettere sul perdurare delle informazioni, delle immagini e della memoria che è costitutiva della nostra identità. Il ruolo di coesione sociale della scuola, alla quale però ovviamente non si può demandare tutta la responsabilità. La scuola non è, come posso dire, la responsabile apicale di una serie di responsabilità individuali. Il ruolo degli adulti, degli insegnanti e dei genitori soprattutto, non può essere sostituito in toto dalla scuola. I luoghi di condivisione sono anche quelli che non sono i luoghi scolastici. C'è una serie anche di strumenti normativi, che ovviamente sono l'ultima, l'extrema razio di questa, di questo fenomeno, sui quali ovviamente cercherò di tornare con le domande probabilmente, che riguardano i nostri ragazzi in primo luogo, ma come vedete si tratta di un fenomeno complesso, sfaccettato, valiegato, che ha a che fare con la costruzione dell'identità personale, con i processi di memoria, con la trasmissione della conoscenza, con la conoscenza degli strumenti di trasmissione, con la conoscenza degli strumenti digitali. Io mi fermo qui, le domande sono già aperte, forse posso andare un attimo alla parola al presidente, se vuole porre lui qualche domanda a me, poi risponderò a quelle delle scuole. Prego, Igor, caro Igor. Sono in linea? Sì, sei online. Benissimo, benissimo, grazie di questa relazione. La mia domanda è molto semplice, una domanda storico-filosofica, no? Ci sono delle, come dire, delle radici, o meglio ci sono, quali sono le radici più antiche della riflessione filosofica sul bullismo, almeno nella nostra, nel nostro secolo, ecco, o nel secolo passato? Ci sono, diciamo, dei grandi classici di riferimento che se qualcuno volesse andare a consultare potrebbe considerare come dei punti di riferimento? Allora, questa è una bellissima domanda, ti ringrazio molto per questa domanda, perché in realtà la letteratura si è interrogata molto di più che non la filosofia fino adesso. La filosofia sta arrivando un po' in ritardo su questi temi, perché li ha trattati da sfaccettature diverse. Per esempio, Don De Lillo ha scritto ultimamente, è uscito proprio nemmeno un mese fa, un piccolo, un piccolo libretto che si chiama Silence, il silenzio, e che io vi inviterei a leggere perché è una bella riflessione contemporanea, ripeto, nemmeno 15-20 giorni fa, è stato pubblicato, se non ricordo male, da Leinaudi, proprio su questo fenomeno. La filosofia riflette con degli strumenti che sono acuminati, che sono come dei bisturi, che ovviamente si attualizzano nel momento in cui noi utilizziamo le lenti della filosofia. Però c'è da dire che ci sono dei fenomeni ancora molto inediti, molto complicati, che fra loro sono in intersezione. Per esempio, il fenomeno delle fake news, la costruzione di vere e proprie ontologie, cioè di oggetti ontologici rispetto ai quali noi ci muoviamo, le false verità che però destinano, non lo so, la politica dei grandi paesi, ovviamente coinvolgono anche gli individui. Non bisogna pensare che sono cose poi così lontane nel microcosmo, perché qui c'è una probabilità di confini, fra privato e pubblico, fra tempo e durata, come diremo in senso filosofico, veramente molto sottile. Io approfitto per rispondere già alle prime domande che posso leggere. Mi chiedono, crede che Telegram potrebbe divenire una nuova forma di dark web? Beh, Telegram è uno strumento e mi posso assicurare che mentre Telegram è sotto osservazione, perché è ancora un sistema di micro blogging in maniera tecnica, cioè è un piccolo blog in cui esistono dei link che permangono e possono anche essere monitorati, gran parte del body shaming e del bullismo non avviene tramite piattaforme come Facebook, che hanno la loro struttura e ogni piattaforma ha una sua funzione topica. Sto utilizzando un po' di tecnicismi, permettetemi, ma diciamo che ogni piattaforma ha una sua struttura logica, se volete semplificare. Beh, la maggior parte, sappiate, avviene via WhatsApp. Telegram è diventato una sacca del dark web, ma il dark web è una cosa molto particolare. Il dark web riguarda la circolazione delle armi, il dark web riguarda i farmaci, i la vendita degli individui, cioè non ha che fare tanto con il cyberbullismo. È qualcosa di terribile, ma non è il luogo del cyberbullismo. Il luogo del cyberbullismo sono le cerchie sociali riconosciute e può avvenire anche fra adulti quando si formano delle micro nicchie, delle micro reti, per esempio attraverso WhatsApp. Stefano Marra, liceo capisce maglie. Un ringraziamento al professore Cira C, non solo per questa puntuale relazione, ma anche per ciò che ha fatto per la rassegna. Grazie. Grazie Stefano. Io avrei ringraziato Stefano Marra e l'amica Dolores Merico, che sono i due docenti che hanno partecipato a questa rassegna alla fine, ma a questo punto colgo l'occasione per farlo in questo momento. Mi si chiede, secondo lei il limite di età nei social network potrebbe evitare episodi di cyberbullismo? Il limite di età può essere un criterio di limitazione, ma fra l'altro non c'è bisogno che i ragazzi dichiarino di essere minori. Quando mai l'hanno fatto i ragazzi? Io ricordo quando ero minore cercavo comunque di andare a vedere qualche film, di dare argento, qualche cosa che mi era vietata dicendo che avevo 18 anni. I ragazzi difficilmente autodichiarano le proprie colpe, però basterebbe il codice fiscale, basterebbe inserire il codice fiscale, quello non si può contraffare. Per esempio, perché non lo si utilizza, perché non si utilizza questa pratica, per dirne una. Quindi sì, può essere uno strumento, non è l'unico, ricordatevi che sorvegliare e punire non potrà mai sostituire l'educazione. È la cultura il rimedio. L'extrema razio può diventare la sorveglianza, ma si parte dall'educazione agli strumenti, da un'educazione comunitaria. Questi fenomeni sono tipici di comunità sociali che si disgregano, in cui esistono dinamiche e dinamiche del conflitto. Mi viene chiesto, dalla quarta liceo Comi, il professore ci ha spiegato per bene in che modo può avvenire il cyberbullismo. Potrebbe approfondire il discorso per quanto concerne i cosiddetti gas liking? Il gas liking, va a dire, la circoscrizione, la manipolazione della percezione di una persona, avviene solitamente in gruppi di bulli. Perché succede questo? Perché ci sono dei contesti a specchio, cosiddetto. Per esempio, io ho una classe e tutti prendiamo in giro una persona e però lo facciamo non soltanto di persona, anzi, difficilmente lo facciamo di persona, ma costruiamo delle piccole nicchie, delle piccole reti attraverso Facebook, attraverso Instagram, attraverso WhatsApp, per esempio, per prenderle in giro in altro modo. E questo manipola la percezione di sé fino al punto che uno si indebolisce e crede di essere un cretino, o di essere grosso, o di essere brutto. Ovviamente si fa leva sulle debolezze e chi fa questo, chi utilizza questi strumenti, è a suo volto un debole. Il bullo è il vero debole, perché ha bisogno della cattiveria per poter emergere. Questo dovete farlo capire voi ai vostri simili. Solo le persone deboli, solo le persone non costruite dal punto di vista identitario, hanno bisogno di buttare sterco sugli altri per potersi sentire qualcuno. Anonimo, nonostante l'avvento del femminismo, che ha sicuramente apportato una certa emancipazione sessuale nella nostra società, oggi più che mai assistiamo a fenomeni di revenge porn. Cosa pensa al riguardo? Beh, c'era un bel libro di Ospetec, Minevaganti, in cui il personaggio, che è un omosessuale, dice al fratello, non possiamo più dirlo a papà, non siamo mica nel 2000, siamo molto dopo. Questo è molto simbolico, vuol dire che stiamo tornando indietro, vuol dire che stiamo perdendo qualcosa, vuol dire che il regresso è sempre possibile. Il revenge porn è particolarmente odioso, perché la sessualità è riconoscimento, il fatto di scoprirsi attraverso la propria sensibilità sessuale, attraverso, come posso dire, l'indagine su se stessi, noi ci identifichiamo in grossa parte attraverso la sessuale, sappiamo chi siamo, quello che possiamo, quello che non possiamo. Ecco, bisogna stare attenti perché il revenge porn cavalca dei miti, i miti della pornografia, i ragazzini credono di poter fare le medesime cose che vedono fare nei filmati porno e invitano i propri simili a essere altrettanto buffoni, no? Vedete, questa è una gara a perdere, è una gara a perdere perché la sessualità in quanto tale apertura e ricerca di se stessi, anche la propria fragilità e anche il proprio non accedere a alcune cose e proprio per essere apertura si spiega proprio attraverso il rispetto dell'altro. Una sessualità che non sia rispetto dell'altro è puro onanismo. Questo se lo dice persino la Bibbia che voglio citare. Ludovico Rizza dice a Palmieri, ci sono persone famose che incitano all'odio, senza per forza l'uso di offese e insulti, ma non vengono denunciati perché viene considerato libertà di pensiero. Ma è davvero giusto non punire legalmente chi condivide questi pensieri? Lo dirò in maniera molto netta, no, non è giusto. Un grande filosofo contemporaneo, Herbert Marcuse, parlava della tolleranza repressiva. Che voleva dire la tolleranza repressiva? Beh, la tolleranza repressiva è quella per la quale noi ci conformiamo di idea di più, in un caso, quella passiva, oppure nel caso della tolleranza attiva diciamo che tanto è tutto uguale, no? Sono stati cattivi i nazisti, ma anche i comunisti. Sono stati cattivi i tedeschi, ma anche non so che cosa. Ci sono i morti, i morti ammazzati della Shoah, ma ci sono anche quelli delle foibe. Beh, insomma, signori, qua un punto è certo, quando accadono cose terribili, siamo tutti un po' vittime, tutti siamo vittime, ma io posso comprendere, non posso giustificare alcune cose, quindi da questo punto di vista noi non possiamo accettare l'odio e il limite che ci ha descritto benissimo Popper, nello scritto della società aperta, Popper ci dice noi possiamo essere tolleranti con tutti tranne che con gli intolleranti. Questo vale anche per il discorso d'odio. Lo Stato dovrebbe intervenire nella regolazione dei social network ai minori di una certa età, anche prevedendo una sanzione per i genitori che lasciano in mano ai loro figli pericolosi oggetti come internet. In realtà già esiste questa legge, signori, i genitori sono già responsabili e lo sono i vostri professori a scuola se siete minorenni. Il problema della legislazione è che i social network non affondano, non hanno radici in un paese soltanto e quindi hanno la sede legale in paesi dove la legislazione è diversa e per la quale per esempio possono agire in un certo modo. Quindi il problema si risolve nelle macro strutture, per esempio nell'Europa e nell'America, in maniera sovranazionale, perché sovranazionale è la rete. Gabriella Calogiuri, liceo Palmieri, condivide con i docenti l'opportunità di introdurre l'educazione all'uso dei social tra le materie scolastiche? Sì, a patto che lo facciano i filosofi. Adesso vi farò sorridere. C'è bisogno di educazione a questo tipo di strumenti, c'è bisogno di informatica umanistica, ma questa materia che è una cosa vastissima, che riguarda tante declinazioni, che riguarda non soltanto l'etica, non soltanto l'epistemologia, ma riguarda anche insomma le edizioni digitali di maestro Eckhart o di Cartesio, per fare un esempio, beh però c'è un portato che è proprio quello dei principi di conoscenza che sono prettamente filosofici e ci sono poi dei riscontri, degli effetti, che sono di natura etica e il motivo per il quale i filosofi è necessario che si occupino di certi problemi. Quarta liceo Comi, è a conoscenza del revenge porn effettuato quotidianamente sulla piattaforma Telegram? Sì, ho risposto prima, quello è un tipo di revenge porn che ovviamente esiste e ovviamente va da, come posso dire, va condannato senza se, senza ma, devono intervenire le forze dell'ordine, la pubblica sicurezza eccetera, ma posso intervenire se denunciate, se vi sottraete, se questi gruppi esistono e perché sono pieni di gente che gli fa esistere. Quindi un problema, ripeto, non del sorvegliare è del punire, ma è un problema dell'educazione. Ludovica Rizzo, liceo Palmieri, tra l'altro proprio oggi hanno parlato di Liliana Segre che viene di nuovo cyberbullizzata e grazie Ludovica Rizzo, la Segre ha fatto una cosa intelligente, quello che vi invita a fare, a denunciare. Non è vero che non avrà un effetto, perché vedete, anche il cyberbullo, anche il più esperto, anche quello che pensa di non essere rintracciabile perché utilizza il VPN, può essere rintracciato dalla polizia postale, esattamente come posso farlo io dalle vostre chat, perché mi arriva un codice che è il codice macchina. Quindi questa gente può essere perseguitata, deve essere, perché non avrebbe senso non farlo e lo dobbiamo fare puntualmente noi, perché le forze dell'ordine sono, come posso dire, sono quelle. Siamo noi che i cittadini in prima persona che sono responsabili di alcuni atteggiamenti. Quindi grazie per la domanda e viva Liliana Segre. Quinta B è il liceo Girolamo Comi, c'è un rapporto tra slogan facilmente replicabili e i comportamenti da bulli, c'è sempre un rapporto fra slogan e bullismo perché il bullismo vive di luoghi comuni. E il burlo un tempo, ripeto, potrebbe essere il macio, adesso il burlo può essere qualcuno che semplicemente porta un particolare, non so, zaino firmato o fa una determinata festa in una certa maniera. Vuoi mettere che non fai la festa di 18 anni in discoteca con 70 persone, 60 persone? Anche quello, l'imposizione di alcuni, di una maniera di vivere e bullismo. C'è un rapporto quindi strettissimo. Poi le ultime due domande perché non potrò rispondere ad altro. Liceo De Giorgi, in che modo il concetto di bolla e di cociamber è cambiato nel tempo? Non sono in fondo realtà che sono sempre esistite anche prima di internet? No, questo è un errore tipico, non sono sempre esistite anche prima di internet. La bolla dei filtri non mi permette di fare errori. Se io andavo in piazza e dicevo una stupidaggine, beh, forse potevo far ridere qualche amico, ma nella piazza del mio paese sicuramente c'era qualche persona più anziana che qualche scappellotto me l'avrebbe sicuramente dato. Mi avrebbe fatto capire che era una stupidaggine, quindi non è vero che è la stessa cosa. E' proprio questo il problema, è proprio questa la struttura specifica dei social network e il fatto di confermare i propri errori, i propri pregiudizi, senza la possibilità della confutazione. Cristina Barbara, che ringrazio, ringrazia veramente tanto il professore Cidaci, il presidente, il professore Agostini e quanto hanno collaborato a realizzare questa settima edizione di Filosoficamente. Ovviamente Cristina Cara, come scrivi, ci diamo appuntamento per l'anno prossimo, sperando di essere in presenza, di non dover tenere tutto in telematica, perché anche questo è stanchevole, soprattutto viene meno quella presenza del corpo che è fondamentale in una comunicazione efficace e sincera. Io devo ringraziare tutti voi per la grande partecipazione che c'è stato e devo dire che non ci aspettavamo una partecipazione così larga e così numerosa. Permettetemi di rispondere all'ultima domanda, poi dovrò chiudere domande, le ultime due. Liceo scientifico del Giorgi, scusi ma se si utilizza una virtual machine ed una proxy chain, come si può tracciare il cybercriminale? Le virtual machine, tutte le virtual machine hanno comunque dei codici, dei codici, ma lo stesso linguaggio che voi utilizzate dal C++ al basic antico fino all'HTML a dei codici incorporati. Quindi è sempre possibile tracciare, non vi fate trarre in inganno fin quando ci sarà un destinatario e un mittente e sarà necessario un canale di comunicazione, fin quando esisteranno questi due fattori della comunicazione, si potrà sempre rintracciare il mittente. Può essere più complicato, può essere meno complicato, ma non impossibile. Questo ve lo posso assicurare. Liceo comi quarta AA, l'ultima domanda alla quale potrò rispondere, davvero una lezione interessante da proporre non soltanto su questa piattaforma a chi ha seguito questo corso fin dagli esordi, ma anche in altri ambienti. Allora vi ringrazio per queste osservazioni, vi ringrazio davvero molto. Permettetemi di ringraziare tutti i docenti delle scuole del nostro coordinamento, che ormai non sono pochi, anche quelli che hanno veramente frequentato tutte e 11 i seminari, ma anche coloro che si sono scritti da fuori, come alcuni colleghi, amici della Sicilia, di Torino, eccetera, che si sono scritti anche su piattaforma Sofia Muir. Questo ci ha permesso di raggiungere anche terre lontane, siamo sempre noi quelli lontani, quando si è al sud. Quindi mi fa particolarmente piacere ricordare ricordare chi ha partecipato anche al di fuori del nostro coordinamento, mi fa piacere dire che è stata una rassegna itinerante, quella di filosoficamente, che ha avuto un certo successo, che è dovuta a voi, alla vostra partecipazione, a tutti voi. Ricordo a tutti i docenti di firmare per l'ultima volta il registro delle presenze e sappiate che avete già a disposizione sulla piattaforma condivisa, il modulo per poter certificare la partecipazione al seminario da parte dei vostri docenti. Vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio il Presidente, il corso di laurea, i licei e le scuole superiori che hanno partecipato a questa lunga rassegna di undici appuntamenti. Cedo la parola di chiusura, come è giusto che sia, al Presidente del nostro corso, il Professore Agostini e ci rivediamo l'anno prossimo. A presto. Solo per ringraziarvi tutti quanti e darvi la rivederci all'anno prossimo. Buona serata a tutti, a presto.